Ciao, Gossip News. Sul grande schermo con Giorgio Pasotti, Notte e Tempo di Francesco Prisco. Ruoli intensi e grandi registi, ma per Nina è solo l'inizio. Quella per la recitazione è una passione innata per Nina, che nell'ultimo film, Notte e Tempo, interpreta una ragazza sempre nella ricerca del vero amore. Un thriller bellissimo, un film pieno di sentimento e dei personaggi meravigliosi. Come ti sei trovata sul set? Bene, è stato tutto molto veloce, sono state quattro settimane tra Napoli e Bolzano.